Siamo con Luca Armani, difensore destro del San Bernardino. Luca, dimmi un po', sei uscito e la squadra ha pareggiato. È stata la mossa vincente? Diciamo che è stata una partita un po' convulsa, un po' confusa. Il mister ha messo dentro qualche ragazzo un po' più propositivo, qualcuno che potesse dare qualcosina in più in fase di non possesso. Prima abbiamo preso l'1-0, poi sono stati molto bravi a crederci fino all'ultimo minuto e alla fine è arrivato il pareggio e per poco non c'esce anche il secondo. Quindi va bene così, l'importante è che la squadra faccia bene. Dall'inizio dell'anno che t'avevo visto giocare, mi sa che hai perso qualche chilo e t'ho visto più attivo sul campo. Allora, io vengo da un anno, quello passato è un po' complicato, sono stato fermo e quindi riniziare è stato un attimo, rimettersi in forma è stato un po' complicato. Ora, giocando con continuità, trovando i miei spazi, sto sicuramente meglio. Conoscendoti so che la squadra potrà contare su di te. Ciao Luca. Grazie.